Il premio Nobel per la letteratura 2016 è stato assegnato a Bob Dylan per avere creato delle nuove espressioni poetiche all'interno della tradizione della grande canzone americana. Così Sarah Denius, segretario generale dell'Accademia del Nobel, da Stoccolma ha annunciato l'assegnazione del Nobel per la letteratura al cantautore statunitense, all'anagrafe Robert Zimmerman, primo musicista ad essere stato insignito del premio. La scelta di premiare il menestrello di Duluth, Minnesota, dove Dylan è nato il 24 maggio del 1941, ha mostrato grande coesione nella giuria. Il grande cantautore, 75 anni, ha pubblicato il suo primo album nel 1962. Considerato uno dei musicisti più importanti nella storia della musica rock e folk, ha scritto alcune delle canzoni più famose della musica americana, da Like a Rolling Stone, At the Times They Are Changing, da Desolation Row a Hurricane. I testi delle sue canzoni hanno accompagnato e segnato il passaggio da una musica folk tradizionale al moderno folk rock, ma hanno anche dato voce al movimento dei diritti civili negli Stati Uniti degli anni Sessanta.